Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Codingamer582 E oggi siamo qui per vedere Come livellare Tantissimo con un semplice trucco Allora Come livellare, come fare i XP infiniti Lo sai Vittoria oppure come si epi Ehm O forse anche commercio Boh non mi ricordo Si troveranno Ehm tipo di Eccoli qua Voi ogni partita ne potete fare quante ne volete Ora qui E non prendo nemmeno un'arma Ehm Y Scusate Y Y Y Y Y Y Y Qui Qui E vi darà 121 P Per ognuno Così dovete farlo per tutti quanti Io vi rodo di iscrivervi E di lasciare like Ora scappo un attimo Perché Qui